Misser, la terza sconfitta consecutiva in casa, ma l'atteggiamento è stato diverso. Certo, passa tanto per la topica di Micai, la reazione c'è stata, però come motivarsi anche questa sconfitta? Mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per i nostri sostenitori che ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto. Mi dispiace per questi episodi, perché la gara mi è sembrato qualche masenza alibi. Qualche braccio un po' aperto, qualche decisione, ma non deve essere un alibi. Vorrei dire alla mia squadra di vedere con positività le cose, anche perché la depressione non ci porta alla soluzione del problema. Migliorare qualche aspetto, migliorare qualche gamba, perché dobbiamo migliorare la condizione di taluni. E lavoreremo, è stata una settimana sul profilo di lavoro, è incommiabile, perché i ragazzi hanno lavorato con molta serietà. E l'atteggiamento e il comportamento sul campo è stato corretto. Ci penalizza il risultato, questo mi sembra in evidenza, però secondo me ci penalizza oltre misura, perché noi meritavamo di portare a casa qualcosa stasera. E domande da studio, mister Lauricolare. Mister, buonasera ad Antonio Martone e grazie per la sua disponibilità. A suo avviso il risultato più giusto per questo derby quale sarebbe stato? E soprattutto la seconda domanda che sicuramente si starà facendo anche lei. Perché questa saleritana fuori casa ha trovato l'assetto giusto ed in casa purtroppo non riesce a beccare punti? Ecco, sembra veramente una maledizione, un controsenso rispetto a quello che riuscite a fare, ma anche rispetto a quella che è l'impostazione della squadra. Oggi contro un Benevento, che è una squadra secondo me molto forte, siete riusciti a non farli giocare, vi siete chiusi bene. L'aveva anche lei preparata la partita tatticamente alla perfezione. Ecco, si può parlare solamente di sfortuna e casualità o c'è qualche altra cosa? No, sfortuna e casualità no. C'è da affrontare un momento difficile con l'orgoglio e il coraggio di portare la maglia della saleritana veramente con atteggiamenti corretti, con comportamenti corretti, con vehemenza. E io questo oggi, a essere sincero, l'ho visto in campo. Arriento dagli spogliatoi, mi piangeva il cuore nel vedere questi ragazzi, ho esortato loro di alzare sulla testa, perché se continueranno a fare queste prestazioni sotto il profilo della determinazione e se riusciremo a migliorare qualcosina sotto il profilo della conclusione, perché è vero che c'è stata vehemenza, è vero che abbiamo chiuso tutti gli spazi, è vero che siamo andati più in alto ad attaccare, è vero tante cose, ma è anche vero che dobbiamo essere un po' più incisivi davanti e dovremo migliorare tanti aspetti. Però l'episodio incidente ci può stare, vorrei dare anche forza al mio portiere, perché in questo momento ha la mia fiducia e quindi lui deve sapere che deve stare tranquillo, deve continuare ad allenarsi, ha dimostrato di essere un ottimo portiere in questa categoria. In un momento di difficoltà io gli tendo la mano e gli dico forza Ale, lavorando verrai fuori da questo momento. E' tutto qua, si vede un mondo in questo momento difficile, ma io vorrei dare una prova di forza a questa squadra dicendo coraggio, andare avanti con convinzione perché abbiamo dei valori e dobbiamo metterli sul campo prima possibile e poi il campionato sta andando avanti. Lei è una persona coraggiosa, del resto lo ha dimostrato lasciando il mondo fatato della nazionale per buttarsi nella mischia nel campionato cadetto e lo sta confermando stasera con queste sue parole. Io le faccio l'ultima mia domanda, poi cedo la linea al collega Luca Esposito. Velocissimo, un suo giudizio sul Benevento e questa Salernitana, anche alla luce della classifica corta e di questi miglioramenti che lei ha denotato, anche se per alcuni che ci ascoltano può sembrare un paradosso alla luce del risultato, lei pensa che la Salernitana possa dire la sua per i playoff e fare questo regalo per il centenario ai propri appassionati tifosi. La Salernitana dovrà affrontare le partite, se è possibile, con più qualità è come se fosse l'ultima, cioè la prossima partita è l'ultima, la partita di non ritorno, non si può sbagliare niente, dovremo migliorare qualcosa nella nostra testa, essere più convinti perché dobbiamo migliorare anche il dato, noi abbiamo segnato pochi gol, dobbiamo lavorare sul condizionamento di qualche ragazzo perché Emanuele Calaiò ha bisogno di un periodo per riadattarsi perché non gioca da tantissimo tempo, lo stesso Davide Di Gennaro, ci sono dei giocatori che hanno qualità, che si devono riadattare a livello atletico e io penso che la Salernitana con quella mentalità potrà regalare soddisfazione ai propri sostenitori. Sul giudizio, questa squadra può lottare per la diretta a suo avviso? Benevento è una buona squadra, questo è un campionato particolare, sicuramente ci sono 3-4 squadre che possono lottare per la promozione diretta, dipende secondo me molto anche dal Palermo. Tornando anche alla domanda del mondo dorato, nazionale, io sono venuto qua perché voglio molto, tanto, bene alla Salernitana e alla città di Salerno. La risposta per me è semplice. Rapidamente un'ultima proprio per chiudere. Mister, buonasera, sì, però se no ho una domanda in più risposte. Allora Mister, è stata una settimana difficile per la Salernitana. I tifosi, chiaramente la vittoria avrebbe fatto un po' calmare i bollenti spiriti, chiamiamolo così. Chiaramente Micai purtroppo è stato sfortunato, chiamiamo di sfortuna di Micai, chiaramente la squadra gioca meglio fuori casa, Mister. Chiaramente in casa soffre un po', diciamolo, la pressione del pubblico. Micai è una dimostrazione. Nonostante lei prepari la squadra, oggi mi è piaciuto tantissimo, la difesa perfetta, centrocampo ha agginato bene nel primo tempo, Tempo, Krizetig, praticamente sono stati bravi sia Minale che Di Tacchio. Purtroppo Mister, il problema è sempre quello. Manca la qualità in avanti. Lo stesso anche Di Gennaro, lo stesso Rosina, sono giocatori. Calaio è entrato, ha fatto capire di che pasta è fatto. Non è possibile vedere un Di Gennaro Rosina così abulici, così, non lo so, li ho visti un po' scocciati, quasi che se facessero un piacere. Mi hanno dato questa impressione. Calaio invece è entrato, ha segnato, ha fatto capire che ci può dare una mano. Non si può vedere un atteggiamento un po' rinunciatario di Di Gennaro Rosina. Questa è la mia impressione, Mister. Cercheremo di lavorare anche sotto questo aspetto, Luca, perché i ragazzi hanno qualità e bisogna, io darò il massimo per motivare tutta la rosa, non solo loro due, ma tutta la rosa, perché secondo me è un dispiacere, ripeto, dopo una prestazione del genere, tornare negli spogliatori e vederli affranti, con la testa giù. Bisogna tirare sulla testa, bisogna credere di più in noi stessi e sono convinto che noi faremo buone cose. Questo non sono parole di circostanza, lo sento proprio dentro. Questa è una squadra che secondo me potrà fare delle ottime partite.